Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1 in direzione sud, rallentamenti per traffico tra Aglio e Calenzano e tra Firenze e Impruneta e Incisare Gello. In carreggiato apposta rallentamenti tra Firenze e Impruneta e Firenze e Scandicci, tra Calenzano e BV1 Variante, tra BV1 Variante e Badia. Arriviamo in Fipili dove troviamo rallentamenti per traffico tra La Strassigna e Firenze e Scandicci in direzione del capoluogo. A Firenze ricordiamo le modifiche alla mobilità in occasione di Firenze Rocks, tutti i dettagli sui nostri canali social. Per la mobilità segnaliamo inoltre due incidenti in Viale Truria e traffico molto sostenuto sulla direttrice Portal Prato Fortezza, Piazza della Libertà. Prima di salutarci per il traffico aereo, il volo Pisa-Stoccarda delle 16.45 al momento segnalato in partenza e in ritardo alle 18.00. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!